L'intero girone senza sconfitta è stato completato domenica scorsa con la vittoria di Agropoli. Non vuole in ogni caso ralentare la propria marcia al Bitonto in serie positiva da 17 turni e capolista del girone H di serie D con 4 punti di vantaggio su Sorrento, 5 sul Foggia e 7 sul Cerignola. Caccia alla quinta affermazione casalinga di fila per i nero-verdi di Roberto Taurino che domani a partire dagli ore 14.30 ospiteranno al Città degli Ulivi una nocerina che non sa più vincere, non lo ha mai fatto nelle ultime sei partite di questo campionato. Grande, grandissima attesa e non può essere diversamente anche e soprattutto per il derby della Murgia che si giocherà alle ore 15 sul prato del Tonino D'Angelo. Da una parte un team Altamura che nelle ultime sette esibizioni interne ha collezionato ben cinque vittorie e due pareggi, dall'altra un Gravina che ha saputo rialzare la testa domenica scorsa battendo al vicino il Foggia. Un punto separa in graduatoria le due contendenti, 27 per il giallo-blu di Valeriano Loseto, 26 per i bianco-rossi di Alessandro Monticciolo. Entrambi i tecnici non saranno presenti in panchina perché squalificati. Si preannuncia sugli spalti la solita grande festa di sport. Il Fasano, dopo il pareggio di Tolentino nella semifinale di andata di Coppa Italia di Serie D, completerà il trist di impegni in una settimana sfidando il trasferto alle 14.30 alla Gelbison. Biancazzurri di la terza alla ricerca del primo successo del 2020. C'è il sesto risultato utile di fila nel merino di un Taranto che vuole giocare i play-off. Ionici impegnati alla stessa ora sul campo della vicecapolista Sorrento, una realtà che non conosce la parola sconfitta da quattro mesi e mezzo. Terbi del Salento invece al Giovanni Paolo II a partire dagli ore 15. Il Nardò in serie positiva da nove turni ospita un Casarano che vuole presto tornare ad occupare un posto nella griglia play-off. Per il Brindisi infine alla stessa ora c'è l'impegno esterno a Marsico Petere contro la matricola Grumentum Baldagri.